È notizia di queste ultime ore che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sta avvertendo, sta avvertendo i singoli stati, di prepararsi alla prossima pandemia, perché ho visto che qualcuno tra i miei contatti sui social ha pubblicato una notizia facendosi delle grasse risate con un commento che possiamo risumere, e ma si sticazzi adesso. Peccato che come ho detto in altri casi, in altre occasioni, l'OMS ci aveva già avvertiti di l'arrivo di questa pandemia, o quantomeno di una pandemia, più o meno in questo periodo, e lo faceva da tempi non sospetti, da una dozzina d'anni anche più, avvertendo, ed è una cosa che sto ripetendo da due mesi, sono anche un po' stufo, avvertendo i singoli stati di preparare dei piani antipandemia, terapie intensive, dispositivi medici, dispositivi di protezione, più o tutto un impianto di norme e di provvedimenti per preparare anche il tessuto sociale a convivere, quello che stiamo facendo adesso con un virus. Ovviamente l'OMS è stata ascoltata da una manciata di stati, Germania, in Singapore, Sud Corea, Israele, boh, adesso, credo questi sono i quattro che mi ricordi, e mi ricordo i pochi altri, e guarda la casa sono quelli che hanno affrontato meglio il problema, ma è una cosa che ho già detto. Adesso l'OMS ci avvisa che ci sono 200.000, credo, sto guardando, sì, 200.000 virus o batteri che sono idonei a fare il salto di specie, a fare il famoso spillover tra animale ed essere umano, che è poi il modo in cui si generano il 99% delle pandemie o quantomeno delle epidemie, poi ci torniamo. Il famoso punto salto di specie che ha causato anche questa pandemia di coronavirus, di covid-19, benché ne dica il buon Trump che evidentemente vuole accusare la Cina per distogliere l'attenzione da una gestione pessima della pandemia negli Stati Uniti. E in domani è da mettere in conto, e questo l'ho letto perché non sono un virologo, un epidemiologo, non sono un infettivologo, non sono nulla, sono una persona che legge, in questo periodo ho letto diversi libri sulle pandemie, e ho letto che la prossima pandemia potrebbe essere molto più pericolosa di questa, soprattutto in termini di tasso di mortalità, perché questa è molto contagiosa, il coronavirus covid-19 è molto contagioso, ma un tasso di mortalità piuttosto basso, invece una futura pandemia potrebbe avere un'alta contagiosità, un alto tasso di mortalità, che è più o meno quello che torniamo a citare il film Contagion, che abbiamo visto in quel film. Quindi abbiamo 200.000 virus che sono pronti idonei a fare il salto di specie, fare lo spillover, quindi diventare epidemici per l'uomo, e poi non dimentichiamo che esistono anche pandemie di natura batterica, e qua sono meno preparato, però ho letto solo un articolo, in questo caso non un libro, che anche questi possono tranquillamente rientrare nel nostro futuro come specie umana, ovvero pandemie batteriche. Inoltre, e questo l'abbiamo già visto, e avremo conferma in futuro quando il mondo tornerà a una pseudo normalità, il contatto fra esseri umani ora è velocissimo, attraverso appunto navi, aerei, auto, spostamenti molto veloci che spostano noi e di conseguenza il virus, sicché ogni potenziale epidemia locale può diventare una pandemia globale nel giro di pochi giorni, e anche questa è una cosa che abbiamo visto, e ci sono delle cose molto brutte fuori che aspettano ad arrivare tipo dall'Africa o dal subcontinente indiano all'Europa, gli Stati Uniti, e a farci proprio male male male, quindi io riderei un po' poco condividendo questi articoli, poi fate un po' voi. Ci sarebbe da ripensare, e anche questo non è un pensiero mio, perché non sono neanche un ecologista, né uno studioso di ecologia, pensate un po', non sono proprio nulla. Però ho letto che ci sarebbero dei modi per prevenire l'insorgere della pandemia ancor più che per preparare gli Stati a sopportarle, a reggere l'urto. Per esempio non bisognerebbe distruggere più l'abitato naturale che spingono gli animali a spostarsi in zone, o comunque convivere in zone abitate dall'uomo, quindi facilitando il salto di specie. Per esempio bisognerebbe smetterla con la deforestazione, tanto per dirne una. Bisognerebbe smetterla con i mercati di animali esotici, soprattutto quello che stanno credo, spero, smettendo di fare in Cina per fini alimentari, mangiare serpenti, pipistrelli, queste cose qui, ma anche per collezionismo, per caccia, per motivi futili, bisognerebbe smetterla con il traffico di animali esotici per qualunque motivo, quindi vietare la caccia, imporre dei limiti a certe diete anche se tradizionali, parlo sempre dell'Asia e chi se ne frega se sono tradizionali. Poi bisognerebbe smantellare o ridurre molto gli allevamenti intensivi che sovraffollano un gran numero di animali, li riempiono di antibiotici, amplificano la trasmissibilità, la potenza di un virus e quindi facilitano ancora una volta lo sviluppo di epidemie locali che, come abbiamo detto, possono diventare immediatamente pandemie mondiali e, ripeto, per l'ennesima volta è quello che è successo, è quello che sta succedendo. Queste sono delle cose molto banali a quanto pare che in qualsiasi libro serio sulle epidemie, sulla virologia, ce ne sono molti, sono quelli che ho detto io, tipo spillover, il famoso spillover, che spiegano la cosa in termini semplici, anche perdonete non andati ai lavori per i profani, per me che sono uno scrittore alla fine che ama documentarsi perché comunque scrive storie del fantastico che si basano anche su eventi come questo, quindi il mio dovere è informarmi e, informandomi per diletto o per scrittura, assimilo anche informazioni che possono essere utili. E questo è quanto. Quindi, per riassumere, ho visto delle grosse risate ieri sera, l'altro ieri, condividendo questa notizia su il probabile arrivo di altre epidemie da qui al 2050, mi pare, al 2040, quindi anche un limitato tempo per chi di noi è ancora giovane, e anche pandemie più mortali e quindi magari ridere un po' meno, informarsi un po' di più e non fare come questa volta che ci siamo andati a fare gli aperitivi, i suoi navigli, prima quando era in un'epidemia asiatica e molti sapevano che sarebbe diventata una pandemia globale, siamo andati a farci gli aperitivi e darci le spacche sulle spalle sui navigli e lo stiamo facendo ancora adesso, non è solo colpa di quei quattro che hanno fatto ovviamente gli aperitivi sui navigli, però ecco, magari al posto di far finta che sia già tutto finito, io mi preoccuperei A di salvarci da questa e parlo soprattutto partendo dall'alto, arrivando poi alle responsabilità dei singoli e poi informandoci e magari votando una classe politica che un domani prometterà di pensare anche alla prevenzione medica di questi episodi e non solo a correre i ripari a cose fatte e non me lo sto prendendo con il nostro governo che secondo me ha ereditato i cocci di 20-30 anni di politica pessima e ha fatto quello che poteva e tutto sommato fatto anche più di quello che mi sarei aspettato, ma non la buttiamo in politica e anzi la finiamo qui e vi consiglio appunto di leggervi qualche articolo, cercate su Google pandemie future o MS e vedete che vi salteranno fuori tutte queste belle nozioni che secondo me fa solo bene sapere.